Spoglia Galleri la showgirl argentina scrive al fidanzato una dedica appassionata, sei l'anima più bella che abbia mai incontrato, senza commentare le voci, sempre più insistenti, di una seconda gravidanza. Tanto che è già partito il totonome primo febbraio 2021 di Claudia Casiraghi senza dire alcuna parola sulla futura, e presunta, genitorialità, Belen Rodriguez ha voluto dedicare al fidanzato parole tenere. Meriti qualcuno che vada in estasi ogni volta che sorridi, meriti qualcuno che ti distraga dalle tue preoccupazioni, meriti qualcuno che senta la tua musica quando avrai voglia di ballare, ha scritto online la showgirl, augurando, con una foto e una dedica, il più felice dei compleanni ad Antonino Spinalbese. Meriti qualcuno che ti abbracci forte, che ti tenga la mano stretta per mai lasciarla, meriti un mondo intero di coccole, di attenzioni, di sguardi complici, di infinite risate dentro mille tramonti. Meriti rispetto, meriti lealtà. E io spero di darti tutto questo ogni giorno da quando apro gli occhi a quando li chiudo, addirittura nei miei sogni, ha continuato la Rodriguez, legata al parrucchiere ventiseriene dalla scorsa estate. Sei l'anima più bella che abbia mai incontrato, e ringrazierò Dio ogni giorno per aver fatto incrociare le nostre strade, ha scritto Antonino Spinalbese, del quale Belen Rodriguez ha pubblicato diverse foto, sarebbe l'uomo perfetto, la metà di una mela che, completa, sarebbe pronta a dirsi famiglia. Belen Rodriguez e il fidanzato, di dieci anni più giovane, sarebbero in attesa del primo figlio, una bambina, Tabitha, secondo quanto ricostruito dal giornalista Santo Pirrotta ogni mattina. A confermarlo, sarebbero state fonti vicine alla coppia. I paparazzi intanto hanno fotografato Belen Rodriguez con forme arrotondate sotto vestiti larghi. Allora, online, si è dato inizio a una caccia che potesse confermare la nuova attesa. Qualcuno ha giurato di aver individuato, nelle foto della showgirl, un braccialetto antinausea, di quelli usati dalle future madri per tenere a bada i primi malesseri. Qualcun altro ha sostenuto di essere stato testimone di un repentino cambio di look. Vestiti abbondanti avrebbero sostituito le mise più audaci, camuffando la pancia in crescita. La Rodriguez non ha confermato, limitandosi a negare di aver rilasciato dichiarazioni di qualsiasi tipo. Fake news, ha scritto online l'Argentina, che gossip vuole aver turbato l'ex marito. Stefano De Martino non avrebbe preso bene la notizia di una seconda gravidanza, il cui termine dovrebbe aversi ad inizio estate. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Staremo a vedere.